E' partita in tutta la campagna, la campagna informativa Vigila Salute, che intende sensibilizzare i pazienti affetti da patologie molto frequenti nella terza età, come ipertensione, ictus e diabete, ad un uso prudente dei farmaci. L'iniziativa è stata realizzata dal Dipartimento di Scienze Mediche dell'Invecchiamento e di Geriatria della Seconda Università di Napoli ed è finanziata dalla Regione Campania. Sono circa 900.000, gli over 70, nella Regione che vivono mediamente un anno e mezzo in meno rispetto alla media degli italiani e sono gravati da un carico molto maggiore di malattie croniche. Napoli è la città italiana dove è più elevata la percentuale di anziani che soffrono di tre o più malattie o che sono stati ricoverati nel corso dell'ultimo anno. Nelle farmacie e nelle asle di tutta la Regione sono stati distribuiti oltre 250.000 opuscoli. L'iniziativa punta alla prevenzione dei danni provocati da un eccesso di farmaci. In generale i pazienti sono affetti, i pazienti anziani, da molte patologie ma queste, i lictus, ipertensione e il diabete sono tra le più frequenti e sono tra le più trattate. Ora gli anziani di solito prendono un eccesso di farmaci e molto spesso questo eccesso di farmaci è inappropriato. Il problema è capire che molte patologie non hanno bisogno di trattamenti molto complessi e che molti farmaci possono essere pericolosi e possono dare più danni delle patologie che essi hanno. L'opuscolo viene distribuito nelle farmacie quindi nei punti di accesso in cui gli anziani possono facilmente essere presenti anche in alcune asle. Nell'opuscolo saranno descritte tutte le procedure che gli anziani devono mettere in essere per poter in qualche modo essere al sicuro dal danno da farmaci.